benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri l'iliade cantata dalle dee di marilu oliva proemio l'incendio di vampa brucia la città la notte tra poco ci inghiottirà e di noi resterà una flebile eco i cantori immortaleranno ciò che rimarrà delle nostre storie e la musa infonderà il sacro talento dell'ispirazione per riceverlo basterà un'invocazione cantami o diva calliope si rivolgerà ai maschi e non per sua scelta perché loro girano come aedi di città in città loro verseggiano le imprese imprese compiute soltanto da eroi mentre noi donne restiamo in disparte a piangere a scaldare un giaciglio ridotte a oggetto scontato merce di scambio talvolta pazze nere di vedovanza private dei figli la vita sospesa disilluse per un imbroglio d'amore vilipese nel corpo barattato custodi caparbie dei nostri segreti cosa resterà di noi dopo che ci siamo viste strappare la pelle e abbiamo squarciato il cielo con le nostre grida io sto per sparire nel nulla creusa invocherà mio marito enea tra poco mi cercherà per i vicoli lui che mentre eravamo in fuga non si è voltato nemmeno una volta verso di me ho già consigliato i libri di marilu oliva che ha scritto thriller e noir di successo e numerosi libri sulla mitologia diventati ormai best seller oggi vi parlo dell'iliade cantata dalle idee pubblicata nel 2024 che chiude una trilogia meravigliosa che l'autrice ha cominciato già nel 2020 con l'odissea raccontata da penelope circe calipso e le altre e ancora con l'eneide di didone del 2022 tutti pubblicati da solferino tra l'altro marilu oliva con l'iliade cantata dalle idee ha vinto il premio selezione bancarella 2024 ha conquistato già numerosi lettori e lettrici pensare al mondo merico così come lo racconta lo narra marilu oliva diventa ancora più affascinante la sua scrittura è lirica e delicata e suggestiva è capace di descrivere gli stati d'animo degli eroi delle eroine delle idee senza nulla togliere alla bellezza dei versi omerici e fedele all'originale soprattutto accattivante nella narrazione di una storia che diventa più che mai attuale e che restituisce l'immagine femminile nella sua dignità e nella sua grande umanità le donne di marilu oliva rispecchiano anche un po il nostro essere madri sorelle figlie mogli amanti donne che sono state in disparte per tanto tempo nel loro silenzio imposto dal tempo e che ora sanno farsi ascoltare con le loro ansie i loro desideri e i loro sogni in questo romanzo ascoltiamo le voci di atena di eris di afrodite di elena cassandra profetessa nefasta testimone di misfatti di amori illusi e di silusi ma poi davvero si può colpevolizzare la bella elena per aver fatto scoppiare una guerra così ingente ma e poi qualcuno si è mai chiesto se fosse veramente felice che cosa significa amare davvero una donna è soltanto una schiava un bottino di guerra che cosa e in questo romanzo troviamo anche agamennone menelao pari de patro clopriamo ulisse e tanti uomini valorosi che hanno fatto la forza di questo poema di guerra ma anche e soprattutto di interessi economici e commerciali uomini valorosi sì ma attenzione anche deboli e facili da colpire nonostante fossero protetti dagli dèi e in questa mobilità di eventi e di bellissimi richiami alla mitologia non si può stare assolutamente in disparte allora se queste donne nell'iliade di omero sono state in disparte in silenzio zittite per tanto tempo o è giunto il momento di dare loro lo spazio che meritano e di ascoltarle allora grazie a marilu oliva per averci fatto ascoltare la loro voce non mi resta che augurarvi buona lettura con l'iliade cantata dalle dèi di marilu oliva se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure mi trovate su facebook o instagram buona lettura www.paginedautore.it oppure mi trovate su www.paginedautore.it oppure mi trovate su www.paginedautore.it www.paginedautore.it ALLometric.it www.paginedautore.it www.paginedautore.it